Noi siamo qui per manifestare il sostegno ai nostri connazionali che sono stati bloccati dal governo Conte da giorni in Inghilterra. Ieri sono stati degli annunci ma non è stato messo nulla su bianco. I nostri connazionali sono ancora su negli alberghi intorno agli aeroporti, sono delle situazioni veramente difficili, sono centinaia di migliaia di connazionali, cittadini italiani che hanno diritto di poter tornare nel proprio paese, di poter tornare in Italia. Quindi chiediamo a Di Maio, chiediamo a Speranza, chiediamo a Conte di firmare ordinanze di PCM, di organizzare voli speciali, voli di Stato ma di andare a prendere i nostri connazionali. È una situazione assolutamente vergognosa. Se poi pensiamo all'immigrazione ci sono nel sud Italia, a Lampedusa, in Sicilia, in Sardegna anche i porti aperti e ci sono gli aeroporti chiusi per gli italiani. È una vergogna. Chiaramente parliamo di rientri, visto che c'è la variante del virus, in totale sicurezza, con quarantene, con tamponi in andata e in arrivo, in totale sicurezza.